La montagna è molto alta, da scalare a mani, piedi nudi e senza protezioni, quindi siamo veramente spalle al muro, però credo che sia anche il bello dello sport, il duro e il bello dello sport, è una partita che abbiamo tanta voglia di giocare, di giocare meglio, contro una squadra che ha dimostrato di essere in grande forma, in grande salute, quindi sarà una gara difficilissima, però insomma dobbiamo pensare a vincere la partita, quando vinceremo la partita, se la vinceremo penseremo al Golden Set, e niente, io mi auguro che sia una serata da ricordare, in positivo ovviamente, però siamo pronti, siamo carichi. Sicuramente sarà una partita piena di tensioni, soprattutto da parte nostra, e credo che la tensione vada accettata, perché è normale che sia così e bisogna conviverci e cercare di incannalarla nella maniera giusta. Bisogna giocare bene a pallavolo, quindi pensare a giocare bene, a murare bene, a ricevere bene, a battere bene, quella sicuramente è la cosa fondamentale, perché si gioca a pallavolo e si vince giocando bene. Sicuramente ci saranno le emozioni del campo, le situazioni, i dettagli che faranno sempre la differenza, ci vuole anche molto cuore, bisogna lasciare il cuore in campo e abbiamo tanti cuori che battono. Credo che la Sir della settimana scorsa sia stata forse la peggiore della stagione, speriamo che basti, perché poi non è detto che basti, sicuramente sarà una Sir diversa, una Sir migliore e ce la dobbiamo far bastare.